oggi siamo in campo nell'oliveto super intensivo affrontare il problema delle infestanti per la maggior parte fortulaca come si può ben vedere sono passata con l'erpice rotante diciamo che l'unica parte dove non riesco ancora ad intervenire è nell'interfila le piante sono ancora abbastanza piccole non si può intervenire con attrezzature interfilari quindi andiamo di zappa purtroppo nonostante l'appezzamento sia di solo un ettaro non si riesce a star lì dietro facciamo in tempo a finire che bisogna ricominciare non sempre è possibile ricominciare velocemente di conseguenza ci capita spesso adesso vi farò vedere che la portulaca o qualsiasi altra erba infestante diventi di grandi dimensioni in pratica queste sei file sono ancora da zappare ma io sono passato comunque con l'erpice rotante perché queste come si può vedere la portulaca sono riuscita ad andare molto molto vicino alle piante con l'erpice la portulaca arrivava all'incirca qui come larghezza quindi la zappatura adesso è sicuramente facilitata in questo video vi farò vedere con l'erpice rotante il lavoro e buona visione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti